Grazie, buongiorno. Grazie a tutti. Vi dico soltanto per farvi un esempio che per alcuni contenuti veniva utilizzato ancora Dreamweaver. È evidente quindi che nell'affrontare un progetto di cambiamento di sito, del sito internet nel 2015, non potevamo limitarci a fare ancora una scelta che fosse soltanto grafica. Ma dovevamo pensare a un progetto più importante, cioè dovevamo renderlo un sito che fosse capace di parlare il linguaggio del presente, sia dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche che dal punto di vista dell'organizzazione dei contenuti. La nostra necessità ha incrociato il progressivo percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione guidato da Agid, il lavoro sulle linee guida. E a un certo punto ci siamo detti che potevamo cogliere un'opportunità. Che cos'era questa opportunità? Volendo la nostra necessità era la stessa necessità di altre amministrazioni e altre istituzioni. Quindi ci siamo messi a lavorare sul progetto del sito di Palazzo Chigi, pensando che da quel cantiere potesse venire fuori anche magari un progetto più importante. Quali sono stati i nostri obiettivi? Ovviamente unire a quelle che sono le caratteristiche necessarie di un sito istituzionale, quindi l'accessibilità, l'usabilità, un linguaggio più semplice, sia appunto nei contenuti che anche nell'aspetto grafico. Provare a essere un esempio di immagine coordinata per le altre piattaforme governative. Semplificarci un po' il lavoro, anche attraverso un CMS d'utile e anche abbattere dei costi di gestione facendo una scelta open source. E a un certo punto anche assumerci una responsabilità, non semplicemente rifare un sito, ma provare a essere un progetto pilota, quindi una buona pratica, sulla base della quale eventualmente poi gli altri siti della pubblica amministrazione potevano lavorarci su. La prima cosa ovviamente era quella di provare a semplificare la comunicazione tra istituzione e cittadino. Con Agid, con Paolo che ha parlato prima di me, con l'ECD, con Mana Factory, con l'informatica della Presidenza del Consiglio e anche con la redazione web di Palazzo Chigi, che è un po' la memoria storica del sito, perché ha fatto, devo dire, un lavoro straordinario in queste settimane. Siamo arrivati a questo risultato. Io non ve lo faccio navigare, però, insomma, devo dire, un po' di differenze le notate già. Io ve ne segnalo solo qualcuna. Diciamo che abbiamo, prima di tutto, appunto, semplificato l'organizzazione dei contenuti. Abbiamo anche, diciamo, lavorato su una navigazione su diversi dispositivi, perché è inutile che vi dica che il precedente sito non era proprio responsive. Abbiamo dato una maggiore visibilità ai contenuti multimediali e anche più spazio, se vogliamo, alla condivisione dei contenuti sui social network. Ripeto, il sito è veramente online da, credo, mezz'ora. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno fondamentali per verificare il percorso che abbiamo intrapreso. Immagino che alcuni di voi magari vorranno darci una mano, quindi, insomma, siamo a disposizione. Detto questo, però, lasciatemi soltanto, effettivamente, ringraziare tutti quelli che vi hanno lavorato, perché, comunque, con grande professionalità e anche con grande generosità hanno dato il meglio sia nei processi e nel lavoro, ma anche nelle relazioni. Grazie a tutti. Grazie, grazie Roberta. Allora